I lavori che si stanno facendo, questi della piattaforma logistica, dimostrano che nei momenti difficili, nei momenti di crisi bisogna investire sul futuro. La piattaforma logistica, anche per le prospettive del nostro territorio, dell'AE45, è uno strumento fondamentale per lo sviluppo del territorio e di quest'area. Questo pezzo della piattaforma logistica, la realizzazione di questa rotatoria che oggi viene, che è frutto della collaborazione dell'impresa con la regione, con la provincia e con il comune di Narni, è uno strumento importante perché si posiziona sulla Marattana, che è una provinciale e consentirà, agevolerà il traffico, l'inserimento nella piattaforma e credo che l'acquisizione oggi di questo pezzo del lavoro che si fa sia particolarmente importante perché sono stati rispettati i tempi, è stato fatto un bel lavoro e ci incoraggia ad andare avanti per la completa realizzazione della piattaforma.